Eccoci ad una nuova lezione di latino, oggi parliamo dei composti di sum e in particolar modo del verbo possum. Si definiscono composti di sum quei verbi formati da un preverbo più il verbo essere latino, più il verbo sum. Dunque, nella maggior parte dei casi abbiamo una preposizione, come per esempio ab, ad, in, pre, più il verbo sum. Il significato è determinato dal rapporto fra questa preposizione e il verbo. I composti di sum si coniugano esattamente secondo il modello del verbo sum e la preposizione, quindi il preverbo, rimane invariato. La coniugazione è identica a quella del verbo essere, tranne che per il fatto che i composti di sum mancano dell'imperativo. Io qui ho riportato l'elenco dei paradigmi dei composti di sum e il mio consiglio è prenderci confidenza, nel senso leggerli e vedere più o meno i significati, anche perché così ci rendiamo conto di come cambia il significato del verbo essere in rapporto con la preposizione. Leggiamone alcuni e vi faccio vedere alcuni esempi su come si trovano coniugati nel testo, sono facilissimi a riconoscersi. Quindi abbiamo ab sum, ab es, ab fui o afui, ab esse. E questo appunto ab, che è la preposizione della lontananza, più sum, vuol dire non esserci, essere lontano, essere assente. Ad sum, ad es, ad fui o afui con due f, ad esse, è l'inverso perché ad appunto è la preposizione del presso, quindi vuol dire esserci, essere presente, il dasa in tedesco. Insomma, de sum, de es, de fui, de esse, è simile ad ad ab sum e significa mancare, vener meno. In sum, in es, in fui, in es, è essere dentro, essere in qualcosa. In ter sum, interesse, questo è interessantissimo anche da un punto di vista filosofico. inter fui, interesse, vuol dire trovarsi in mezzo, partecipare. Da cui la parola italiana interesse, che deriva da questa espressione latina, perché l'interesse è appunto un sentirsi partecipe, un sentirsi parte di qualcosa e dunque sentirsi interessato a quella cosa. Ob sum, invece, che è la preposizione dell'esser contro, ob sum, ob es, ob fui, ob esse, è esser dannoso, nuocere. Pre sum, pre es, pre fui, pre esse, essere a capo, presiedere. Pro sum, pro des, pro fui, pro des, essere utile, giovare. Vedete una piccola variazione di una vocale, quanto cambia il significato. Sub sum, sub es, sub fui, sub esse, esser sotto, sottostare. Super sum, super es, super fui, super esse, sopravvivere, restare. E poi c'è il composto più difficile, che è il composto di questo preverbio pot più sum. Ora, la t rimane tale davanti a vocale, e invece davanti al suono s, si assimila in doppio s, quindi pot sum diventa possum, pot est rimane pot est, pot fui cade la f e quindi potui, pot est diventa posse. Prendiamo un esempio, che ne so, prendiamo desum, des, defui, des, questo fa desum, des, de est, desumus, de estis, desunt, de eram, de eras, de erat, de eramus, de ratis, de erant, e via dicendo. Come li riconosco? Perché io trovo il verbo essere coniugato, e se lo guardo bene, prima del verbo essere c'è solo la preposizione, quindi io stacco la preposizione, il verbo essere lo riporto alla prima persona singolare, e riattacco la preposizione, cioè facciamo un esempio, io trovo ad fueram, io mi rendo conto che fueram è una voce del verbo essere, stacco ad fueram, dico in voce del verbo essere, cerco ad sum. Andiamo a vedere invece la coniugazione del verbo possum, che dà qualche difficoltà, non tanto per ritornare al presente, per ritornare a possum, quanto perché fra alcune forme, diciamo, dei tempi presenti e alcune forme dei tempi storici, ci sono pochissime differenze, e quindi ci dobbiamo, come dire, ci dobbiamo fare molta attenzione. Quindi abbiamo possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt, In perfetto, poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterant, Futuro semplice, potero, poteris, poterit, poterimus, poteritis, poterint. I tempi storici sono costruiti sul tema del perfetto potu, e quindi abbiamo potui, potuisti, potuit, potuimus, potuistis, potuerunt. Il più che è perfetto, dunque, è potueram, potueras, potuerat, potueramus, potueratis, potuerant. E se vediamo, è molto simile all'imperfetto. L'imperfetto è poteram, il più che è perfetto è potueram. La stessa cosa è per il futuro anteriore, che fa potuero, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint. Quindi il futuro semplice, potero, poteris. Futuro anteriore, potuero, potueris. Andiamo a vedere il congiuntivo. Di nuovo è pot più il congiuntivo del verbo essere, con questa variazione di cui abbiamo parlato. Quindi la t davanti alla s si assimila in doppio s. Quindi possim, possis, possit, possimus, possitis, possint. L'imperfetto, invece, è, come sappiamo, l'infinito presente più le desinenze semplici. Quindi possem, posses, posset. Quindi possim è presente, possem è imperfetto. Quindi possem, posses, posset, possemus, possetis, possent. Perfetto, potuerim, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint. Più che perfetto, potuissem, potuisset, potuissemus, potuissetis, potuissent. Gli infiniti abbiamo soltanto il presente e il perfetto, non abbiamo l'infinito futuro. Gli infiniti, dunque, sono posse e potuisse. Abbiamo soltanto il participio presente, che tra l'altro usato soltanto come aggettivo è potens, potentis, che infatti usiamo pure in italiano e significa potente. Manca, come abbiamo detto, anche questo composto di sum come gli altri dell'imperativo. Bene, io spero che questa lezione sui composti di sum sia utile per voi, sia per chi sta facendo un ripasso in preparazione di una verifica o di un esame, sia per chi sta apprendendo dalle fondamenta questa lingua. Vi dico subito che a breve ci saranno altri due video sui cosiddetti verbi anomali, cioè questi verbi che hanno una coniugazione particolare. Il prossimo sarà su volo, nolo e malo, quindi il verbo del volere e i suoi composti, e poi ce ne sarà un altro a seguire sul verbo eo, verbo andare. Fatto questo andremo a vedere i verbi deponenti e a questo punto la morfologia base è terminata e non ci resta che portare avanti soltanto il discorso sulla sintassi del periodo e la sintassi del verbo. Dunque io auguro a tutte e tutti buon lavoro e vi chiedo due cose. La prima è farmi capire se questo video è utile per la preparazione, per il ripasso, per il potenziamento. La seconda è di effettuare l'iscrizione al canale in modo da non perdere le pubblicazioni. E poi per chi vuole c'è a disposizione lo strumento dei commenti che potete usare se avete delle esigenze particolari, se ci sono degli argomenti sui quali avete la necessità di ritornare, che è necessario ripetere con altre parole, spiegare ancora più semplicemente. Quindi se ci fossero dei dubbi, delle perplessità, delle incertezze, non esitate, potete scrivermelo nei commenti e io nei limiti del possibile vi risponderò e se ci saranno richieste di video particolari vi asseconderò. Specifico però che ovviamente non ci sarà mai la traduzione se eventualmente aveste dei compiti a casa o delle versioni, non vi faccio la versione, insomma mi pare ovvio, però invece tutto quello che può essere ripetere degli argomenti, andare a vedere delle particolarità, dei contenuti che magari avete sentito a scuola non siete riusciti ad apprendere fino in fondo, quindi se ci sono delle cose di teoria da spiegare in forma più approfondita non esitate a chiedermelo. Dunque io vi ringrazio per l'attenzione, vi esorto ancora ad effettuare l'iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video.